Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Minecraft con un solo blocco Oggi sono in compagnia del mio caro amico Pollo, buongiorno Benvenuti in un nuovo video Ok, bella faccia allora Mi duole dirlo, è veramente pesante per me dirlo ma Nello scorso episodio avevi ragione e quindi Ti devo chiedere umilmente, scusa Aspetta aspetta, devo filmare questo momento No, lo sto già filmando io, sto facendo il video Oddio, va bene, ti chiedo scusa, avevi ragione Ti ho rotto io il blocco sotto i piedi e hai perso il super piccone per colpa mia Sei contento? Scusa e accettate Ecco, tutti i fan mi hanno detto nei commenti Kendall in realtà sei stato tu, gli hai rotto tu il blocco ed è morto per colpa tua Devi chiedergli scusa, io farò di più Bella faccia, oggi farò molto più che chiederti soltanto scusa Dammi tutto quello che hai No, ok, non esageriamo adesso Tu cosa hai perso esattamente? Hai perso l'armatura? Ah, perso, allora c'avevo un'armatura con protezione 4 Sì, non è vero, non ce l'ho neanche io protezione 4 Avevo la mele poa Sì, le mele OP, le spade Non è vero Dai, cosa avevi veramente? Allora, c'avevo Il piccone è sicuro Piccone superforte, poi avevo l'armatura Avevo tutti i blocchi Avevo un buon omaggio per una Sì, il buon omaggio per il McChicken Ascolta, vieni, vieni qua Io sono una persona buona e misericordiosa, giusto? Ho fatto un errore, quindi lo riconosco Riconosco il mio errore Il che significa che io adesso ti ricompenserò Ma questa è la tua armatura? No Questa è la tua armatura, secondo me No, non penso proprio Vabbè, comunque, come ti dicevo Ti ricompenserò Visto che sono stato io a provocarti quel danno Hai perso il super piccone Che serviva a entrambi, in realtà Adesso, bella faccia Ti crafto un nuovo piccone E lo andiamo a incantare insieme Oh, mi sembra giusto Io pensavo un'altra cosa anche Eh, che cosa pensavi? Oltre al piccone Io divento padrone di tutta quest'isola E te vai a vivere là sopra Sì, allora, non ti allargare, eh Non esagerare Ragazzi, lasciate un super mi piace per questo video Mi raccomando, perché questa serie vi piace tantissimo E tra non molto saremo pronti per andare a uccidere il drago In realtà non è vero Non saremo pronti perché tu non hai nulla Che stai facendo? Mi hai buttato su Che stai facendo? Niente, dai Belli, il raccolto è là Sto aspettando che mi fai sto coso Allora, spera che esca un buon piccone Perché io te l'encento solo una volta Vai, no, no Come solo una volta, scusa Allora, scegli tra Non ti dico qual è l'ordine di questi tre incantesimi, ok? Devi scegliere tu Allora, ci abbiamo Tocco di velluto Efficienza 3 E indistruttibilità 1 Scegliene uno Nessuno Come nessuno? Orribili Eh, vabbè, devo farli per forza però Eh, no Mettiamo una torsa o qualcosa Io rivolgo il mio piccone Ho un'idea Facciamo così, allora Questo qua che così mi consuma solo un livello Vieni un attimo Vieni Sai costruire tu il disincentatore? Quello che toglie gli incantesimi? Ah, c'era, vi è già pronto? Sì Ah, ok Bene Perfetto Quindi? Ma me l'hanno consigliato tutti nello scorso episodio Mi hanno detto Kendall, non craftare 100 picconi Fai il disincentatore Eh, vabbè, scusi Il cosa? Io sono stupido Il disincentatore Il disincenta? Perché? Come si chiama? Disin? Ridillo? Disincentatore Disin? Sei sicuro? Disincentatore Adesso è diesel Vabbè, senti Allora Oh, oh Attenzione Attenzione Scegli Indistruttibilità 1 Fortuna 1 O Fortuna 2 Sì, ma non è come l'altro Oh, senti, ho capito Io sto cercando di fare del mio meglio Per ridarti un piccone decente Quanti livelli hai? Eh, ne ho 33 Mmm, no, no, no No? No Quindi faccio di nuovo Disincenta Lo disincento Lo incianto e lo disincento Lo inciance e lo disincento Ok, oh, mi restano gli ultimi due tentativi Dopodiché non ce li ho più 30 livelli Eh, cavolo tu hai Li riprendi Ho capito Ma tu sei un po' troppo esigente Bella faccia Io volevo farti un regalo Oh, oh, oh Allora Efficienza 1 Non mi dire Fortuna 1 Oppure Fortuna 3 Con tre livelli Fortuna 3 Vediamo cosa esce fuori Bella faccia Siamo pronti? Vai, 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 vai Vediamo Non ci credo Voglio vedere No, no, no No, no, no Non ci credo Tieni, guarda cosa è uscito Mamma mia Bella faccia Eh? È bellissimo Come l'altro È finale È finale Beh, sei sicuro Che mi hai dato Quello giusto? Ah, forse ho sbagliato Ok Beh, quindi ti do Quello giusto Ah Sei pronto? Sei pronto a guardare La perfezione? Eh? 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 Come si dice? Lo vado a fare in nederite subito Ok, come si dice? Oh mamma Ma anche come si dice Mi hai buttato giù Vabbè, però si è un po' riconoscente Ma come prego? Ma prego di cosa? Dov'è? La nederite Mi sa che ne abbiamo soltanto tre Facciamo una roba Dammi un attimo Vado a prendere un attimo Un'altra nederite No, 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 no La mia spada non è questo granchè Bella faccia Non è questo granchè È potente È soltanto una filatezza Filatezza 4 Aspetto di fuoco 2 Potremmo Dobbiamo mettere in distruttibilità È questo qua C'è un problema Che problema? Il mio piccone Era di nederite No, il tuo piccone era in nederite No, no No, no Il mio piccone era in nederite Sei sicuro? Non siamo proprio pari Allora, tu ce l'hai un'ascia? No Me l'hai buttata giù Anche quella mi dovresti fare Mamma mia Senti, torna a casa Gli utensili ci sono Li prendi Fai un'ascia Così mi aiuti a scavare E poi te la faccio anche in nederite Ok? Ok Mi piace Certo Avevo anche un ilmo In nederite Che bugiardo Che bugiardo È vero? Era in nederite No, tu mi sa che non ce l'avevi l'armatura Non mi ricordo Ma mi sa che l'armatura in diamante In nederite non ce l'avevi Oh Oh Che è successo? Che cavolo Oh mio Dio Bella faccia Cosa? Sta succedendo una cosa Incredibile Riesci a parlare? No Come faccio a parlare? Come? Come faccio a parlare? A, B, C Vieni subito Arrivo? Vieni subito nel neder Arrivo? Che cosa cavolo? Non ci credo Bella faccia Guardati attorno Eh Mettiti qua e guarda Vedi? Vedi quello che vedo io? Ma dove? Come ma dove? Non cadere che hai il piccone Ma dove? Non vedi tutto attorno Che si sta creando un mondo? No Oh mio Dio Allora forse Alzo i chunk Forse Eh alzali Io forse li ho dimenticati altissimi Guarda qua Riesco a vedere tutto un mondo intero di neder Secondo me sei pazzo No 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 Nel prossimo episodio dobbiamo esplorare il mondo allora Usciamo dall'isola con un solo blocco Esploriamo il vero neder Ma ho i chunk al massimo Tu sei Allora si è buggato Non lo so Io riesco a vederlo Io ti giuro Riesco a vedere una parete infinita di neder Non è meglio che ti riposi un pochettino Forse sei stato troppo sveglio Forse sono stato troppo sveglio a farti il piccone E tu non mi hai neanche detto grazie Senti lo buttiamo di sotto questo piccone Allora Allora Se tu provi a fare una cosa del genere Io ti giuro che ti banno dal server Vabbè Non è che ti devo dire proprio grazie eh Me l'hai buttato giù Vabbè Però si un po' riconosce Ah no Che cavolo Sono spuntati i silverfish Non è possibile Com'è possibile scusa Infatti li avevo sentiti Hanno rotto i blocchi sotto i miei piedi Ho perso tutto Io non sento eh No lo so che tu non c'entri Ma che cavolo è successo Ho sentito Perché c'era della pietra infestata lì? Io me ne vado Era cobblestone scusa Era cobblestone Te ne sono ancora Ma no Ma il mio incubo peggiore Ho perso tutto Bella faccia No no Allora tu vattene via Perché è il piccone migliore del mondo Col tuo piccone possiamo rifare tutto È pieno di silverfish Scusami Sono ciottoli È cobblestone normale E vattene tutto silverfish Ne ho rotti altri No Non si può solterire Non è possibile Il karma Ah io Io non lo metto neanche nel titolo del video questa cosa Perché è proprio una sorpresa È una cosa che non doveva succedere Si può solterire Cioè Non voglio neanche spoilerarvela questa morte Perché è proprio una sorpresa No Cioè ragazzi vi giuro Non ho avuto neanche il tempo di reagire Ho sentito E sono morto Dai Vieni No che dici No no è tuo dai No Dai Dai da grandi poteri derivano grandi No 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 Insisto Insisto Sarai tu a ritrovare tutti i diamanti per tutti Dai No no Sì 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 Vai vai Andiamo a dormire intanto Aiaia Andiamo a dormire Andiamo a dormire Ah lo lascio lì Despaula No non ci provare Ciao piccone Vieni qua a dormire Dai Ciao piccone Non ci posso credere Avevo l'armatura in nederito La spada No Allora sai cosa facciamo Ma perché c'erano i silver Sai cosa facciamo adesso Adesso Facciamoci furbi Ora noi rifacciamo tutta l'armatura Tutta la spada Tutti i livelli Tutto quanto E li teniamo in una cesta Fino al giorno in cui non entriamo nel land Sì Hai ragione Perché è troppo pericoloso Dammi quel piccone Dai vado a prendere altri diamanti Cioè io non ci credo I silverfish Ma scherziamo Ma non lo so Da un momento all'altro Erano ciottoli Era cobblestone normalissima Non è che per sbaglio abbiamo messo dei mattoni infestati E come facevi a trovare i mattoni infestati Infatti non si possono Non si possono trovare Io mi prendo un'armatura scrausa qualsiasi Scrausa Eh sì Giusto per essere un po' equipaggiato Ci dobbiamo fare anche un'ascia Non ci credo Abbiamo perso tutto E quindi adesso? E quindi adesso dobbiamo Lavorare tantissimo Per riottenere tutte quelle cose Io torno nel nether Non è possibile Non ho neanche i materiali per fare un'ascia Vieni nel nether Ma una porca miseria Ma guarda tu No tu sei nel nether E prendi le robe del nether E io cerco di riprendere i diamanti Ma il bello è che era solo Guarda Erano solo quei due blocchi sotto di me Come se fosse tipo uno scherzo No io Non Sei disposto a giurarlo? Lo giuro Ma sai che cosa? Guarda Sono di fianco Sono di fianco A dove stiamo spaccando il blocco No? È come se il blocco avesse generato Il silverfish dentro i blocchi Guarda Guarda Vedi? È vero Un altro lì Guarda Un altro lì Però guarda Guarda qui tipo Guarda qui Quindi è il blocco Anche qua Ma perché? E qua no? Qui no? No qui no Eh sai cosa? Metterei tutto sotto lì È un bug Mettiamolo ossidiana Guarda Sì è un bug È un bug Prima non era mica così eh? No 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 Prima non era così Vuol dire che è proprio Così non possono uscire È impossibile No con l'elto Proviamo Che cavolo è Vai vai Allora io continuo a scavare Vediamo Sto distante però Oh se perdiamo il piccone No 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 Non mi fido No ma tu ce l'hai dietro il piccone Sì 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 No 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 Non mi fido Non mi fido Non mi fido Non mi fido Senti Ce l'avremo dell'ossidiana no? A casa sì Sicuro vero? Assurdo Io non userò più mai più i soldi Io non ci credo comunque No te lo giuro Mi viene da piangere Cioè non è giusto Non è possibile Non è giusto No ora sai cosa faccio? Io onde evitare Qualsiasi tipo di problema Onde anomale Onde anomale Sai cosa faccio? Io creo una piattaforma Ancora più spessa qua Sì di due No no Che di due? Di trenta Di trenta Guarda Eh ma che cavolo Cioè io ho perso Un'armatura finale Ci abbiamo messo Dieci episodi A farla Non è giusto Però forse il karma Perché l'avevi tenuto tutta per te Vedi Ma smettila il karma Ti avevo fatto un piccone epico Ti avevo preparato Volevo essere buono Per una volta Che sono buono Vengo ripagato in questo modo Ma ci rendiamo conto? Eh beh è buono In effetti dovevi rifarmelo Sai com'è? Sì ho capito Però sono stato buono Cioè Potevo tranquillamente dire Dai scusa E basta Vediamo se i fan capiscono Perché ci sono i silver Inaspettato Cosa? C'è stato un lampo C'è stato un tuono Ma non è che Forse il mondo sta diventando Sempre più difficile Perché giochiamo da tanto Aerobrine forse Ma dai Aerobrine Non penso Secondo me Siccome stiamo giocando Da tanti giorni E il gioco vuole Che noi andiamo a distruggere Il drago Forse sta diventando Più difficile la difficoltà Potrebbe Perché guarda Che noi giochiamo ormai Da quanto? Tipo 20 giorni? Kendal Ma ci sono anche Di fianco al portale I silver fish Ma come di No 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 Esci fuori Senti Noi rifacciamo Tutto quanto Di ossidiana Facciamo uno strato L'ossidiana Non si può rompere No? Eh no Direi proprio di no Se si rompe l'ossidiana È la fine È veramente la fine Mi faccio Non si posso credere Aspetta Io sto cercando Di fare delle protezioni migliori Guarda Penso io dai Non è possibile Cioè mi viene veramente Mi viene male Ci abbiamo messo tantissimo A fare tutta quell'armatura Ho un'idea Comunque i fan Secondo me la sapranno Sapranno il perché Arma? No 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 Dai scusa Ma non ho fatto niente Dai Non è giusto Non è proprio giusto Allora Guarda cosa faccio io adesso Sto facendo le protezioni Io sto creando una piattaforma Extra qui Così se dovessimo cadere Se per esempio Si dovessi rompere un blocco Sotto i miei piedi C'è un'altra piattaforma E posso salvarmi No guarda Guarda cosa sto facendo io Guarda dentro il nether L'ho fatta io La seconda protezione Guarda Ok ok Tu fai nel nether Io faccio qua Non tenere oggetti Oggetti rari nell'inventario Che non si sa mai Qualche bug Qualche spintone Guarda è pieno È pieno Di silverfish Sì Ma oh Non era così negli altri episodi No Cioè ragazzi Li avete guardati gli altri episodi No? Erano normali? No non erano così Eh che cavolo è successo Da un momento all'altro Guarda Io vedi perché li odio i silverfish Sono proprio gli animali più inutili di minecraft Adesso si li odio ancora di più Ora li odio ancora di più Mi hanno fatto buttare settimane e settimane di lavoro Di farming Non è possibile Non è giusto Allora Per fortuna il mio piccone si è salvato No io ho fatto una bella piattaforma adesso Quindi qua è impossibile cadere E anche se dovessimo cadere cadiamo nella piattaforma Nella pattumiera Nella pattumiera Prendiamo di nuovo il piccone con fortuna 3 Farmiamo tanti Perché c'è un piglin a casa? Che sta succedendo? Penso io Dov'è? Da dove è spuntato fuori questo piglin? Se non c'è spazio per sponare lì Non si capisce più niente Non si capisce più niente in questo mondo È diventato pazzo Un mondo pazzo Allora io con questo piccone adesso mi metto a farmare tantissimi diamanti Tanto ho Fortuna 3 Cioè ne troveremo almeno 20 No 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 non mi fido Ma guarda ti faccio vedere No bella faccia Adesso è sicuro No ascolta Fino a quando non mettiamo Fino a quando non mettiamo Il coso di ossidiana Io non ci vado nel nether Con questo piccone Fidati Eh lo metti giù ovviamente il piccone Posso il piccone e vengo dici? Sì guarda cosa ho fatto Ok arrivo Però io voglio trovare i 30 diamanti Ti avviso eh Eh beh puoi stare tutta la notte guarda Eh per forza Ma che cavolo Che rabbia Che rabbia Guarda Sto arrivando Ho postato tutte le cose buone Quindi se dovessi morire fa niente Guarda ho messo due protezioni 30 livelli Avevo 30 livelli pure Si rifanno dai Tranquillo Allora cosa hai fatto? Ok Super protetto Sì dai così è impossibile Anche se dovesse buggarsi Come fa? Eh? Cioè ora Sai quante le derite Dobbiamo ritrovare Per fare tutto il set? Sì infatti Potevi lasciarla giù No te devi fare sempre Quello So tutto So tutto Vabbè ma io potevo immaginarmi Che sarei morto Con un silverfish Però vedi se mi davi Un po' di armatura Te l'avevo detto Dai bella faccia Cioè non è colpa di nessuno Secondo me No ma infatti È stata una cosa Che è capitata Punto e basta Bah io sono arrabbiato Di questa cosa Se capitava a me Va bene va bene No no Anche se capitava a te Dai Sì sì Infatti mi sono dispiaciuto Che ti ho fatto perdere Il piccone Nello scorso episodio Porca miseria Comunque attorno a me Si sta generando un mondo Quindi possiamo esplorarlo Poi in qualche altro video Ragazzi Che cavolo hai fatto? Oddio che paura No no Smettila Dai Dai che oggi Ci sono successe Troppe cose strane Ragazzi Voi lasciate un super Mi piace per questo video Diteci secondo voi Cos'è successo Con i silverfish Io non penso Si è stato uno scherzo Di bella faccia Me l'avrebbe già detto Altrimenti Come faccio a farlo? Non è che sono un mago Eh infatti no È impossibile Dal vostro Kendall E da bella faccia è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao